Ok, benvenuti alla seconda lezione in Edmondo, ottobre 2013 Riepilogo per chi non è riuscito a venire, dove spiegavo comunque delle cose essenziali e basi su come si fanno gli script come si costruisca un cubo molto elementare, come ci si mette uno script dentro e come modificare alcune cose elementari di questo script uso imprudence, quindi in italiano, dovremmo essere tutti a posto quindi la prima cosa da fare è costruire, vedete qui c'è costruisci costruisci, compare una bacchetta oppure anche io spesso e volentieri faccio tasto destro, crea e compare questa bacchetta comunque voi facciate compare la bacchetta cliccando col tasto sinistro per terra compare un cubo vedete che ci sono le freccine per cui il cubo può essere mosso, può essere fatte tutte le cose che abbiamo visto anche la volta scorsa fondamentalmente gli cambiamo nome, gli mettiamo un nome io suggerivo alle persone di mettere il proprio nome quindi se la zara ad esempio ma in realtà poi alla fine metterete che cos'è, lo script quindi qui ci sarà script lezione diciamo ottobre 2013 questo perché poi quando ve lo troverete nel vostro inventory sappiate che cos'è poi un'altra cosa che spesso si fa è di accertarsi che i diritti, le permissions siano tutti spuntati modifica, copia, rivendere, regalare e a questo punto la cosa che si fa vabbè a parte che avevo ancora detto che si poteva andare sulla texture e cambiare il colore quindi farlo verde ad esempio per farlo verde e quindi abbiamo fatto verde adesso può anche farlo che fa il bagliore vedete che è un bagliore comunque non è importante che cosa si fa perché noi ci interessiamo adesso di che cosa fa questo script cioè come fare per metterci uno script in due parole si va nel contenuto vedete contenuto e qui si fa nuovo script nuovo script cliccandolo compare vedete qua il nome del mio oggetto ed è importante che quindi si è cambiato da primitive abbiamo messo un nome perché qui si vede chi è lo script o il cubo che sta generando questa scritta però ha generato questo nuovo script questo nuovo script ci accertiamo quali siano i suoi permessi quindi proprietà io consiglio sempre ma poi spiegheremo meglio di mettere sempre modifica, copia e rivendere e il nome dello script interno ha anche questo ho chiamato come volete primo script giusto per avere un nome un pochino più umano primo script il simbolo vedete è questa specie di pergamena con le luci lampeggianti doppio clic e si vede lo script quindi questo script è tale che ogni volta che viene resettato produce questa scritta quindi script running resettato, quindi salvato c'è proprio un tasto specifico adesso andiamo a farlo vedere stringiamo un pochino la finestrella vedete che nella finestra di editing qui c'è un ripristina facendo un ripristina vedrete che lui risegue lo script quindi ripristina la scritta script running che è quello che gli avete scritto qua quindi qua se volete scrivergli qualcosa di diverso dunque finalmente il mio script funziona quando lo salvate lui produce anche un ripristina e vedete qua che dice finalmente il mio script funziona attenzione che se sbagliate qualunque cosa aggiungete caratteri qua e poi salvate vi compare un errore unexpected e o f e buono qui ci sono il conteggio delle parentesi che non torna qui dovete controllare che man mano che aprite le parentesi poi si chiudono quindi questo è il script principale che è composto da uno stato da un entry e qui c'è l'istruzione e anche qui devono pareggiare tutte le parentesi questa deve pareggiare con questa questa deve pareggiare con questa anche queste parentesi tonde devono pareggiare questa dell'l secolo che gli fa parlare deve pareggiare con questa e anche questa virgoletta deve pareggiare con questa se le dimenticate anche qui ci sono casino cioè lui non capisce vedete che dice dice casino quindi dovete fare in modo tale di essere precisi qui avevo scritto una cosa e cioè l'ultima volta avevo spiegato come si faceva a fare quindi avevo dovuto inserire touch start quindi avevo messo un evento di risposta integer count qui dovete credermi sulla parola qui è un po' come word quindi qui gli mettiamo che ogni volta che viene toccato deve dire quindi l l minuscolo 6 0 sono stato toccato ok quindi a questo punto quando lo salviamo lui esegue la parte di ripristino che è questa la parte di tocco la esegue solo toccando però vedete che qui non posso toccarlo perché ho la finestra questa qui aperta basta che la chiudo scomparmio le frecce a questo punto cliccando vedete che appare il sono stato toccato in alternativa se ce l'avete in modifica quindi con le freccine e non riuscite perché toccandolo non fa niente potete fare tasto destro e toccarlo del menu leggermente più lungo ma mi consente di fare anche questo mestiere o in più la volta scorsa l'ho fatto anche vedere che è possibile invece quando si fa state entry mettere una scritta fluttuante sopra quindi che non dica niente ma che scriva qualche cosa sopra lo si fa con questa funzione ll set text scritta scritta sopra il cubo vedete questo che inizia con le virgolette la scritta finisce con le virgolette e poi gli dobbiamo mettere minore taterna di numeri che sono 1, 1, 1 vuol dire la quantità percentuale di rosso verde e blu RGB quindi in questo caso rosso, verde e blu tutti fanno 100% fanno bianco se no se volete che la scritta sia scritta in altro colore mettete una combinazione diversa se la volete solo rossa qui dovete mettere 1, 0, 0 l'1 finale indica quanto evanescente è la scritta però si mette sempre 1 comunque anche qua ricordate che se iniziate con il minore dovete mettere il minore maggiore in fondo salvando in questo modo salvato vedete che scritta sopra il cubo ed è in bianco per vederla in un colore diverso ad esempio in blu RGB il blu è il fondo G verde è in mezzo facciamo 0 0, 1 salviamo e la scritta ci appare in blu e valgono tutte le combinazioni quindi se qui metto 0, 1, 1 viene fuori verde più blu che è un ciano forse no? e questo è un po' tutto quello che abbiamo visto elementare ah no abbiamo visto anche come andare a capo quindi se volete fare andare a capo questa cosa qua potete fare questo trucco in cui scrivete la scritta sopra il cubo e poi andate a capo così seconda linea terza linea quindi andate a capo proprio dentro lo script no? e questo è un modo forse semplice che permette di andare a capo far andare a capo le cose oppure i più esperti mettono questo carattere che è la barra rovescia quella che va dall'alto a sinistra in basso a destra barra n barra n vuol dire new line poi cance seconda linea barra n cancello e così metto tutto in una sola riga e ottengo più o meno lo stesso effetto vedete? ottenuto lo stesso effetto quindi a questo punto non avete scuse sapete come costruire un cubo sapete come mettersi dentro uno script sapete come metterci i nomi e via discorrendo c'è ancora un po' da allora questo cubo lo possiamo prendere e nel momento in cui l'abbiamo preso scompare dal mondo se si degna di sparire forse non si degna ah è sparito si perde e si copiare nel nostro inventory ed è negli elementi recenti ed è script lezione quindi posso da qui rimetterlo e metterlo nel mondo e lui vedete che diventa tutto bello attivo e fa quello che gli abbiamo insegnato no? possiamo anche in realtà salvare il contenuto dello script e quindi questo script che ho segnato può essere estratto dal cubo e messo dentro l'inventory quindi di solito si mette sotto gli script ecco e si chiamava primo script e qui potete avere la vostra libreria di script per esempio questo e questi script qua possono essere infilati semplicemente mettendoli dentro un oggetto quindi se io adesso qua cancello creo qualunque oggetto questo e poi ci infilo posso anche farlo così posso prendere lo script da qua e lo metto così vedete che questo script praticamente anima automaticamente il mio oggetto posso cancellarlo qui notate che se cancello lo script non va via la riga se voglio far andare via la riga devo avere uno script qualunque esso sia che faccia un ll set text ma che cancelli cioè che al posto di scrivere qualcosa scriva niente quindi ll set text di niente allora a questo punto uno script del genere quando lo salvo o lo ripristino vedete che fa cancellare l'intestazione di questa cosa ripeto ancora ci sono qui un po' di cose da dire sui permessi esistono i permessi relativi al cubo che si vedono qua in fondo quindi questo ad esempio non lo vedremo mai perché sarebbe qua sotto stendo un attimino qua sotto giusto per vederlo ok ok vedete modificare copiare rivendere regalare che è quello che raccomando dentro il contenuto abbiamo i permessi anche di questo nelle proprietà vedete che c'è questi permessi questi permessi non coincidono possono coincidere ma non necessariamente con quelli dell'oggetto del cubo principale si possono vi ricordate che abbiamo visto script elezione qua si possono vedere qua gli attributi generali dell'oggetto ma non quello degli script componenti per modificare i permessi degli script componenti c'è questo tasto permessi che consente di applicare questo a tutti a tutto ciò che c'è dentro e quindi di essere sicuri che abbia quei diritti non abbiamo discusso del significato dei diritti ne parleremo ancora però è importante che li conosciate solo una cosa uno dei diritti invece interessanti che forse può valere la pena che voi sappiate è questo qua il diritto di copia in questo modo se voi fate così date la possibilità a chiunque di fare tasto destro altro e di prenderne una copia e a questo punto poi vedrete con l'esperienza che diventa importante che i diritti fossero tutti quelli giusti ora questo video lo caricherò su youtube e rimanderò tutti quelli che mi chiederanno come si fa a fare un cubo o come fare a mettere uno script di questo genere dentro un cubo ti prego di leggere ovviamente questo di vedere insomma questa cosa tutti gli altri viewer hanno delle cose leggermente diverse magari se ce l'avete in inglese c'è scritto build al posto di costruisci la posizione di queste finestre può essere diversa in alcuni non compare il menu fatto così ma compare una tendina qua sotto qui magari se siete in second life non c'è scritto primitive ma object ma però a grandi linee insomma sono tutti uguali quindi diciamo questa è la base di sopravvivenza per open sim per second life e in realtà anche per molti altri mondi virtuali e con questo è tutto ci sentiamo la prossima volta grazie a tutti